Il nuovo anno si apre con una rivoluzione per quanto riguarda la raccolta differenziata. Dopo il Vomero e Posillipo, anche in Piazza San Francesco, a Porta Capuana, sono stati installati i primi cassonetti interrati, con l'obiettivo di incrementare la differenziata e favorire il decoro urbano. Le postazioni saranno collocate prossimamente in tutto il centro storico. Ho curato personalmente il progetto di 5 milioni di euro di finanziamento del patto per Napoli per queste campane in tutto il lotto UNESCO. Sono delle attrezzature a scomparsa, si può conferire a qualsiasi ora nella raccolta differenziata, quindi c'è l'estensione della raccolta differenziata. Un grande ringraziamento ad Asia per lo sforzo operativo e tecnico che ha messo in piedi, al Comune per lo sforzo economico, e quindi noi consegniamo questa ennesima attrezzatura ai cittadini. I nuovi cassonetti interrati saranno 45 e permetteranno la raccolta della carta, del vetro e della plastica. Il conferimento sarà possibile 7 giorni su 7, a qualsiasi ora, e integrazione del sistema porta a porta già avviato in gran parte della città. Noi siamo ad un punto di svolta importante, grazie sempre al lavoro di Asia e anche del Comune e del mio assessorato, perché siamo al 38%, ci avviamo verso i livelli finalmente delle grandi città europee. Ovviamente noi abbiamo due modi di fare la differenza da Napoli, uno porta a porta, l'altro con le attrezzature stradali. Quindi chiedo a tutti i cittadini di utilizzare le attrezzature stradali, scaricare l'app di Asia con tutte le informazioni e utilizzare le nostre 10 isole ecologiche che non c'erano, noi ne abbiamo 10 aperte anche sabato e domenica. L'appello che mi sento di fare ai cittadini è informatevi bene, non date retta a quelle che sono delle fake news, ma gli impianti di compostaggio per la raccolta differenziata sono utili, ecologici e soprattutto creano quello che noi intendiamo fare, anche un piccolo abbassamento della tassa dei rifiuti.